Dopo questo spazio dedicato ai comunicati commerciali torniamo nuovamente alla parte dedicata allo spettacolo. Tornano in scena i componenti del gruppo che vi presentiamo con vero piacere. Ritorna il gruppo Avola Folk! 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 Salvo Playa! Ritorna il gruppo Avola Folk! 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 questi limoni praticamente fino a un limite già prestabilito. Chi arriva primo, sia una dei Macaco o una dei Mariners, si aggiudica questo gioco. Vi ricordo due cose fondamentali, è vietato toccare il filo con le mani, quello che pende, e soprattutto non toccare il limone con i piedi, perché se no si è subito squalificati, va bene? Siete due concorrenti per i Mariners e due concorrenti per i Macaco, che arriva prima, si aggiudica questo punto. Vi ricordo solo il movimento del bacino. Siamo pronti? Sono stato chiaro? 3, 2, 1, ecco sono partiti, attenzione non andiamo indietro, non toccare con i piedi, dobbiamo andare in avanti, in avanti, in avanti, ecco avanti la concorrente dei Mariners, ecco bravissima, forza forza forza, spingiamo, spingiamo questi limoni col movimento del bacino, senza toccare il limone con i piedi, brava che stiamo arrivando al limite, attenzione, ancora un colpo, ancora un colpo, ancora un colpo per i Mariners, e se si perde pazienza, se si perde pazienza, stop, ha vinto, ha vinto, una concorrente dei Mariners ha perso, ha perso l'arma, non è importante, mentre è arrivata la sua compagna di squadra, e va bene lo stesso perché a questo punto allora la giudichiamo ancora una volta ai Mariners, bravi, velocissimo, bravissima rappresentante dei Mariners, e allora ancora la situazione a questo punto per i Macaco, si mette male, caro Salvo, caro Salvo, questa sera mi sa che la puntata scorsa hanno vinto, hanno stravinto i Macaco, ma questa sera ho l'impressione che i Macaco, credo Salvo che bisogna esorcizzare un po', ci avviciniamo ai Marineros, così almeno, anzi ai Macaco, perché dobbiamo spingere, dobbiamo fargli fare un po' di tifo, vieni qua, allora Macaco, dove siete? Il suo nome? Roberto. Di dove? Palermo. Palermo, Palermo, che quartiere di Palermo? Piazza Indipendenza. Ecco, da palermitano, io sappiamo, giustamente d'estate si scherza, si gioca, ci sono delle ricette, c'è la famosa pasta con le sarde, che come la fate voi, è qualcosa di eccezionale, ci vogliono i pinoli mi hanno detto, vero? Sì, ma quella lì è invernale però. Sì, lo so, è invernale, ma noi naturalmente stiamo trasmettendo adesso perché la gente così almeno la preparerà per la prossima stagione. Ma l'ingrediente particolare che la distingue da tutti gli altri? Ma dovrei chiederlo a mia moglie. A sua moglie, poi ce lo dirà la prossima volta. Mentre lei è? Marco. Di dove? Sempre di Palermo. Di Palermo, vi conoscevate prima? Certamente. Siete parenti? No, siamo amici. Amici. Allora, senta, a proposito di amici, adesso due amici vostri, nostri, dei telespettatori. Abbiamo detto poc'anzi che Salvo Playa e Maurizio stanno preparando un numero sulla parodia. Mi viene da ridere perché io già sto vedendo preparati i nostri due amici. Sulla parodia di una famosa canzone interpretata da Mina e Alberto Lupo, Parole e parole, vediamo che cosa combinano questi due mattacchioni che sono Salvo Playa e Maurizio. A voi la linea. Non vorrei parlare. Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. E il mio sempre, inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare. Tu sei come il vento che porta i violini e le rose. Caramelle, non ne voglio più. Certe volte non ti capisco. Le rose e i violini, questa sera racconta a Iolanda, che olivi e rose li posso sentire. Quando la cosa mi va, se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole. Parole, parole. Soltanto parole, parole. Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? No, non dire nulla. C'è la notte che parla. Cosa sei? La romantica notte. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio sogno proibito. Proprio mai. È vero, speranza. Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai. Hai visto mai. Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli. Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti. La luna e i grilli normalmente mi devono sveglia. Mentre io voglio dormire e sognare. L'uomo che a volte sente quando c'è. Che parla meno, ma può piacere a me. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, 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 parole. Sono tanto parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Che cosa sei? Parole, parole, parole. Parole, 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 sono tanto parole, parole, trattato Grazie a tutti